Si tindi protesta presso la prefettura da parte degli autisti dei mezzi pubblici Tarantini dell'AMAT, azienda di trasporto urbano. La protesta è scattata all'indomani dell'ennesima aggressione subita dalla conducente di un bus al quartiere Paolo Sesto. Un'aggressione brutale. L'autista è stato picchiato a sangue da un passeggero solo perché aveva a sua volta protestato con un gruppo di giovinastri che lanciava pietre contro il mezzo pubblico. Guidare il bus a Taranto in certi quartieri è diventato veramente rischioso. I colleghi della vittima chiedono maggiore sicurezza e attenzione da parte dell'azienda e dell'amministrazione comunale. Il collega è uscito questa notte in ospedale ma comunque le sue condizioni non sono ottime. Non sta per niente bene. Io ci ho parlato con lui nell'ambulanza quindi è preso ed ha paura di prendere servizio soprattutto in alcune zone della città di Taranto. In questa città ormai non si può più lavorare. Il nostro servizio è messo a dura prova sia dagli utenti che praticamente dalla gente.